E' bello a tutti ragazzi che vi è venuto in questo prossimo video di Elfacento Trento Allora, oggi, come potete vedere, siamo in creativa sul Minecraft Una cosa più bella è che questo è il mondo di GX240 Quindi se lo griffiamo Riusciamo molte cose, ragazzi Perché lui mi ha fatto molti scherzi, ma non l'ho caricato i video ancora, quelli là Quindi potremmo, se troviamo le TNT, potremmo visitare questo mondo Quindi, visitiamo Allora, qua qualche volta ci sono già venuto, però, cioè, non l'ho visto tanto Poi vediamo se c'è la mia costruzione Vediamo se c'è la mia costruzione C'è la mia costruzione, ragazzi C'è la mia ferrovia che ho costruito io C'è la sua automatica Non lo so chi ha fatto là Ah, ha provato a trovare il portarello Comunque ragazzi, benissimo Oggi Tutti gli scherzi che vi hanno fatto GX240 io mi vorrei vendicare Quindi vorrei rifare Peccato che GX240 oggi non c'è Cioè, c'è, solo che è nell'altro studio C'è la mia costruzione Quindi, vediamo GX240 ragazzi Comunque GX240 Comunque Tutte le porte Chiave Ecco, invece GX240 Quindi se riusciamo a trovare la TNT Possiamo fare Ebbene Possiamo Far esplodere tutto Quindi La cosa che ritiene di più Che ritiene di più Allora Oh, qua c'è il panda Ma questo non lo vorrei mai Distruggere E dargli un colpo Dargli un colpo Quindi C'è stato Un'indrosa Quindi Ops Qua c'è il GX240 Attenzione Potremmo essere scoperti Oh La mia costruzione Di TNT Queste giustamente Non la facciamo Esplodere Il bacon Il bacon Ragazzi Il bacon Ha voluto fare Lui Bacon 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 Oh, c'è un cavallo E' una piscina Non ero quasi scordato L'ho costruita Io L'ho costruita io Perché ci ho fatta molta costruzione Prima degli scherzi suoi No? Allora Io Inizierei a trovare La TNT Comunque Perché Vuoi farlo vedere meglio? Vuoi farlo vedere meglio? Cosa? Grazie Lo schermo Ha scarmato Potremmo Trovare E incominciare a trovare qui Quindi Queste cassa Qua non c'è niente Questa è la costruzione tua Qua? La la Anche se tu sei ingrativa Però potevi andare anche In creativa A prendere La TNT Vabbè E' meglio così Perché Cioè Apri l'inventario Quindi Se vienono Noi ci vediamo 8 minuti di invisibilità Ok No Non taglio E' Ci vediamo 8 minuti di invisibilità Sono sicuro che sono 8? Si Sono 8 Ma voi che ci vedi? Invisibile 8 minuti Sento Vabbè Poi avevo visto delle TNT Da qualche parte Vengono tutti qui Infatti Delle TNT Uh Delle pozzine di debolezza Quindi potremmo Potremmo Adesso fermo Sandra Sandra Nel mondo Sandra nel mondo Ci potremmo Lo potremmo Indebolire Quindi Oppure la so fermo Incominciamo Allora Ci sarà la bollicina? Oh si Comunque dobbiamo andare a trovare Questa TNT Io Il posto che troverei Sarebbe Incominciato Questo no? Mmm Non penso Non c'è inverto niente Io so Dove? Conosco un boss Che già con la 140 Mi ha fatto vedere Dove 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 Eh raga Non è sponsorizzato Non è Monster Blade Qui Qui Dove? Qui Sotto Sì Oh la la Dei quadri Ma l'aveva detto già cosa c'è Allora qualche Passa la quadra Quadro quadro Aspetta Cominciamo qua No Sbagliando Ma lascia stare Ma tu devi andare dentro Vai dentro Cerca in tutti i barili 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 Ti consiglio il barile per l'ultimo Ultimo? Per l'ultimo Porca vacca Porca vacca E la mezzo lo faccio in sopravvivenza Però Infatti Aspetta che mi metti in sopravvivenza Sempre se lo possiamo fare 6% Impossazioni Ci dovrebbe essere già in sopravvivenza forse Infatti Nooo Modalità di gioco personale Impossibile Impossibile Mi sa che dobbiamo Andare di là Non è che ci sono Cosa Che dove dovremmo andare Eh Allora All'altro studio Tutti nel cuore No Che io Ok Allora ragazzi Basta di salire Si sta scaricando 5% Oh mio Dio Non si vede niente raga Ok Raga Non si vede niente Ecco abbiamo fatto Ecco La 330 che sta venendo Non ho potuto Prendere perché Non riuscivo a vedere Perché si stava Mettendo il 5% Ok C'è il 5% Ok È caricato Ci mettiamo Ci prendiamo Una pozione Di Night Vision Che dici Di Night Vision Eccola la pozione Nostra Rana Ecco Bisogna Notturna No Ok Buonissimo Ragazzi Vediamo qua Mizzica Sì È quello che hai trovato Prima No Questo è un altro Ci mettiamo Le pozioni Buonezza Allora Le nostre cose Ce le deniamo Questo griff No È il nome Di Ero 330 Ci facciamo pure la scritta Ragazzi Quindi Con la tenda Con la tenda a te Ovviamente Incominciamo da questo posto Ragazzi Incominciamo da questo posto Perché Lui adora tanti binari Ragazzi Quindi Lo sapete Che dobbiamo fare Ci dobbiamo fare Una scritta Con i binari Ovviamente No Questa è meglio Con la tenda a te Per il simbolo Di 3 2 1 Ok Andiamo a prendere Le altre tenda Che ci sono sotto Che mi sa che si è arrendito Ok Bene Ci aveva pure La cosa Ossidiana Su merda Perché Secondo me Ma Lui mi aveva fatto Vedere Questa qua Ce la teniamo Questa quando è mattina In Minecraft Non è mattina È notte Però Non sta sorgendo C'è la night vision Le piccole Ce le faccio Una cosa In privato Scusate Ragazzi Naked vision Significa che La visione è una sonna Che vedi i giorni Invece le notte Ah Stai Quella la facciamo La brr Esce Quella Ragazzi Non lo sapevo Sempre si impara Nella vita Comunque Abbiamo Dobbiamo fare esplodere La sua Questa qua Ragazzi Ditemi se volete La serie Così Oppure Questi griff Di giustizia Perché Lui mi fa Uno scherzo Io raggi So al suo scherzo Ecco qua Madonna Santa Che esplosione No Non dobbiamo arrivare qua Ok Facciamo esplodere anche Il suo Il suo Simbo La sua faccia La sua faccia Ecco La facciamo esplodere Un griff Ma sei Ma sei In sopravvivenza Stora che ci avevo Fatto Madonna Santa Quanto Mi mancano Ti ricordi Quando te ne ho fatto Uno E non sei più Tramata a casa Eh 3 2 1 Via 803 Deve partire Mi avevi fatto Il griff Sono andato Nel tuo monto Nel tuo monto E il tuo monto Questa è casa mia Ragazzi E ci ho griffato tutto E te lasciate pure un cartello Ehm Uh Non stiamo facendo niente No Non abbiamo finito Uscite forse subito Dai Esci Uscite Uscite allo studio Allora andiamo a tornare Dall'altro studio Eh no Ehm Il telefono Si può carmi Ehm Andiamo 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 E Per questo video Mi sarebbe tutto Ragazzi Ditemi se volete Continuare E Venuto G240 Bella Ciao 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 Ragazzi Ciao